Alvia il bando per le borse di studio a favore di diplomati e laureati, arriva infatti alla decima edizione il bando borse di studio Banca Montepruno, un percorso di supporto e vicinanza che vede per l'edizione 2018 ben 36 borse di studio messe a disposizione di diplomati e laureati. Il progetto, che mira a premiare il merito scolastico, è promosso dalla Banca Montepruno in stretta collaborazione con il Circolo Banca Montepruno e l'Associazione Montepruno Giovani. Tante anche quest'anno le novità che caratterizzano il bando, in primo luogo il numero complessivo ed il valore delle singole borse di studio dedicate a soci o figli di soci della Banca Montepruno. Nello specifico si tratta di 15 borse di studio del valore di 200 euro ciascuna a favore di diplomati presso le scuole secondarie superiori e poi 15 borse di studio del valore di 350 euro ciascuna a favore di laureati che abbiano conseguito la laurea con voti da 108 su 110 a 110 e lode. C'è poi la sezione dedicata ai laureati che hanno discusso tesi trattando come argomento proprio la Banca Montepruno. Tale sezione prevede 5 borse di studio del valore unitario di 200 euro alla quale possono partecipare anche laureati che non sono soci o figli di soci della Banca Montepruno. Ultima novità della decima edizione riguarda l'Associazione Montepruno Giovani e di suoi associati. Difatti la Banca Montepruno ha messo a disposizione un premio riservato agli iscritti del sodalizio di giovani dell'Istituto di Credito Cooperativo che hanno conseguito il titolo tra il 1 gennaio 2017 ed il 31 luglio 2018 con votazione di 110 e lode. Tale borsa di studio ha il valore di 250 euro. Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo le modalità indicate nel bando entro e non oltre il giorno 31 agosto 2018.